Allora ragazzi, siamo qui all'angolo del Fuma dove Fuma farà un'analisi critica di tutta la partita, partiamo subito prestazione come ti sono sembrati i ragazzi. Ragazzi oggi hanno giocato tutti bene, dò un bel otto più. Poi peggiori in campo? Peggiori in campo nessuno, tutti hanno giocato bene, hanno fatto il proprio lavoro. Il tuo reparto, la difesa, cosa ne pensi? La difesa è stata impeccabile. Direi ottima. Ma ci sarà qualcuno che ha giocato male? Qualcuno che ha fatto qualche pecca? No, stasera non mi sento di dire niente a nessuno. Anche Sassolino sulla scarpa. Sì, Sassolino, abbiamo speso tante euro di divise, come si può vedere. Tante euro di divise. Il mio nome è stato stampato male la O finale. Potete anche notare dalla stampa. La divisa è un po' stretta, come si può vedere. Sono parole forti contro la società queste. Sì, parole forti. Parole forti. Chiudiamo quindi con questo messaggio. Un momento, un momento, ma le rimesse del Pug... Io, mio compagno, anche il compagno di reparto, ho detto prima della partita, occhio Orco, le rimesse laterali. Come si è visto, l'ha beccata una. Il viaggio per le partite è stato un viaggio tranquillo. Il viaggio per le partite è stato stupendo. Se ne eravamo con un carro funo, veniva la stessa cosa. Abbiamo un autista che non sa neanche mettere la marcia tra un po'. Bene, allora, parole forti. Potete fare un saluto al mio compagno di reparto. Quello che sa battere i fuori. E se ne va, chiudiamo. Vi ringrazio. È alla prossima. Spenderemo per la fase delle nazionali a tre due settimane. Una paghiacciata. Non ho parole. Avere certi giocatori in squadra mi vergogna di far parte di questo gruppo. Delu, perché mangi? Vai, di te. Di te. Perché mangi? Di te. Mi vergogna di far parte di questa...